La nostra azienda coltiva, produce e commercializza prodotti a base di aloe vera, Barbadensis Miller, in tutto il mondo. È nata nel 1978, quindi ben 34 anni fa. Siamo presenti in oltre 150 nazioni in tutto il mondo, godiamo delle certificazioni a livello internazionale e delle autorizzazioni di ben 150 ministeri della salute che in ogni nazione hanno dato l'approvazione per i nostri prodotti. La nostra sede in Italia è a Roma, abbiamo dei centri a Milano, Vicenza, Treviso. Ci occupiamo di fare formazione a titolo gratuito a tutti i nostri incaricati alle vendite che sono regolamentati dalla legge 173 del 17 agosto 2005, che permette alle persone di poter propagandare e informare tutte le persone dei nostri prodotti, permette di raccogliere ordini e non ci permette di fare la vendita e questo è un enorme vantaggio perché le persone non fanno magazzino, possono quindi iniziare l'attività a costi zero e possono raccogliere gli ordini e beneficiarne in questa maniera delle provvigioni. Le provvigioni sono trattate in maniera agevolata, godiamo di benefici fiscali e i redditi derivanti da questa attività non si cumulano con gli altri redditi. La cosa interessante in questa attività è che questa azienda da ben sei anni in Italia continua a crescere a ritmi di due cifre su base annua. È nata nel 1999, oggi che siamo nel 2012 praticamente, non abbiamo più risentito la crisi, anzi non l'abbiamo mai sentita e mai come in questo momento la nostra azienda va bene perché il settore salute e benessere è un settore in continua crescita. È interessante vedere quanti giovani oggi stanno entrando nella nostra attività e anche quanti over 40 che sono lasciati a casa dalle aziende iniziano questa attività godendo non solo dei benefici fiscali ma anche di una possibilità di poter essere indipendente dal punto di vista economico.